E allora, sinistra e sicurezza, Milano cambia musica, lo chiedo a Carmela Rozza che è appena stata nominata dopo essere stata eletta in consiglio comunale, eletta quindi da voi in consiglio comunale, nominata dal sindaco, eletto da voi, assessore alla sicurezza del comune di Milano. Milano cambia musica, che vuoi fare? Ovviamente dovrai prendere possesso della macchina complessissima, quanti vigili per esempio dipendono da te? 3.000. 3.000 vigili a Milano? 3.000 vigili, sono tantissimi se dici il numero, se poi vai a guardare quello che sto facendo in questi giorni, cosa fanno, come sono impegnati, di quante cose si occupano, scopri che poi così tanti non sono, perché i vigili di Milano, la polizia locale collaborano con la magistratura in n indagini, cioè sono tantissime, c'è il nucleo che si occupa delle violenze sessuali e dello stalking, c'è il nucleo che si occupa della contraffazione, c'è il nucleo che si occupa dei writer, più altri che ancora non sono andati a trovare, perché una delle cose che sto facendo prima di tutto è andare a vedere luoghi dove lavorano i vigili e purtroppo credo che dobbiamo mettere in mano anche alle strutture, perché bisogna mettere le persone nelle condizioni di lavorare nel migliore modo possibile e molte sedi della polizia locale non sono degne del lavoro che i vigili urbani di Milano fanno. Quindi i vigili sono costretti spesso a lavorare in strutture che non sono buone? Assolutamente inadeguate. Ed è chiaro che uno se non ha, come se uno lavora in ufficio non ha la penna, la matita, il computer, come fa? Certo, o peggio, lavori uno sull'altro e comunque se io non ti metto nelle condizioni di lavorare bene non ho rispetto neanche del lavoro che tu stai svolgendo. Infatti col sindaco Sala la prima cosa che ci siamo detti, perché mi sembra bello anche dirlo questo ai cittadini, il sindaco mi ha chiesto di vederci almeno una volta ogni cinque giorni per fare il punto delle varie situazioni che man mano è la prima cosa che abbiamo condiviso è la riorganizzazione delle sedi dei vigili e nella riqualificazione di queste sedi perché vanno riorganizzate, perché noi abbiamo 15 commissariati in giro in città magari diciamo che ce l'hai a presidio, ma se poi c'è solo 5 vigili che non possono uscire per strada perché devono tenere la bottega aperta, forse è meglio averne qualcuno in meno ma con vigili che poi possono uscire per strada. Ecco, questa è la situazione della stazione centrale, tra l'altro dalla regia fatemi sapere se qualcuno che è in pattuglia può parlarmi per dirmi cosa sta facendo nello specifico ecco, però queste immagini parlano da sole, un gruppo di persone che non sanno dove andare come ho detto noi abbiamo... Invece scusate, invece di inquadrarmi il poliziotto, tirate con molto rispetto un po' più sulla destra con molto rispetto e da lontano per far vedere, mentre siamo in diretta, per far vedere appunto, tirate un po' più sulla destra l'inquadratura per far vedere che c'è una situazione che è quella che vedete tutti in stazione centrale. Prego Carmela. Proprio perché questa massiccio arriva di profughi o di richiedenti asilo abbiamo deciso di rafforzare il pattugliamento della città ma è di presidiare con più maggiore presenza la stazione centrale proprio perché tanta gente che arriva che non riesce magari a trovare risposte immediate e quindi magari si ferma a dormire anche lì attorno e quindi è un pattugliamento di sorveglianza prima di tutto a tutela di tutte le persone, siano i rifugiati, siano i cittadini che vi circolano. Senti, una cosa che fa molto girare le scatole alla gente e non è tanto una diceria, è anche una cosa che io ho riscontrato in qualche modo è vera, dicono i vigili vengono utilizzati per dare tante 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 multe e lì potremo vedere invece più per strada. Cambierà la musica? Ma guardate che già i vigili non è che vengano utilizzati a fare le multe perché le multe nella città li fanno i, come si chiamano, gli ausiliari della sosta che sono personale ausiliario, non è il vigile urbano che fa principalmente la multa. Poi le altre multe sono dovute agli autovelox. 358 euro ogni minuto che incassiamo dipendono anche da quello. Allora, dopodiché io credo che su questo terreno bisogna trovare delle soluzioni abbastanza adeguate un po' nostre come amministrazione, un po' i cittadini che devono abituarsi a rispettare il codice della strada, perché se si rispettasse il codice della strada ci sarebbero molto meno multe. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio come in tutte le cose. Se però ho le macchine posteggiate in doppia fila, in tripla fila, a casaccio, perché tutti dobbiamo avere la macchina per scendere, dobbiamo scendere dalla macchina e entrare nel negozio... Sta povera gente, ho capito questo, ma sta povera gente, ma che fine fanno poi? No, adesso lì stiamo... l'assessore Maiorino sta lavorando nella sistemazione nei vari centri che già abbiamo e che sono ormai strapieni. È stato anche presso un palazzo, c'è concesso un palazzo privato disabitato per poterne... abbiamo sistemato altre 70 persone, ma la cosa vera è una sola. Noi stiamo chiedendo di utilizzare il campo base di Expo che è fuori dalla l'area di Expo, che è fuori dal comune di Oro. E ma così esce sul giornale che li metti a Expo? Mi interessa poco. Io credo che non è questo un bello spettacolo, né per le persone che lo vivono, che sono gente che ha vissuto situazioni drammaticissime, ma ancora meno un bello spettacolo per i milanesi, perché anche la gente che abita lì non ha diritto... Le persone che abitano lì vivono questa situazione. Allora se vogliamo sicurezza, vogliamo decoro e vogliamo anche essere soggetti accoglienti nelle regole, dobbiamo avere gli spazi adeguati. Il campo base di Expo non è a Expo, è fuori. Quando verrà smantellato diventerà area verde, per cui non togliamo niente a nessuno. E quando sentivo poco fa l'assessore della regione Lombardia, a me fa specie che la regione Lombardia, con la frasetta magica, se ne devono tornare a casa propria, continua a lasciare i milanesi soli, abbandonati, ad affrontare questa emergenza. Qui il problema non è che il comune di Milano può scegliere se riceverli o meno, non lo può scegliere. Arrivano. Dobbiamo avere dei luoghi dignitosi, controllati per garantire sicurezza a tutti e governati. E non è questa la situazione che può darci quello che ho detto prima. Allora 0238602359. Adesso c'è una pausa e subito dopo potete fare le vostre domande a Carmela Rozza. Come se, siccome non è che è cambiata la Rozza, non ha problemi di nessun tipo, come sempre fuori dai denti. Assolutamente. Le chiedete tutto ciò che volete sapendo che è arrivata da... Posso dire un cambiamento che abbiamo fatto già. Già? Subito. Domani c'è il Consiglio Comunale. È stato annunciato dai centri sociali che faranno una manifestazione. Bene, io ho deciso di mettere le transenne a 15 metri dall'entrata della porta del Palazzo Marino perché non voglio più vedere cose che ho visto nella precedente legislatura tipo i centri sociali che entrano e occupano la casa di tutti i milanesi. Quindi è partito 6, non mi ricordo. Partito Democratico. Partito Democratico. Quindi metti le transenne perché non vuoi che i centri sociali si portino via allo spazio riservato. No, perché non voglio che i centri sociali vengano a occupare gli spazi, a protestare quando si sta addirittura domani l'insediamento dell'Assemblea Democratica votata da tutti i cittadini di Milano, tutti quelli che hanno voluto votarla. E i tuoi della sinistra cosa hanno detto? Carmela sta ferma. No, no, no. Io ho parlato col sindaco, il sindaco ha condiviso con me che questa era la scelta giusta. Bisogna mettere anche le forze di polizia nelle condizioni di governare la piazza e quindi non voglio neanche che gli uomini della polizia e della polizia municipale siano a rischio perché sono in una situazione di malgoverno della piazza per cui si mettono le transenne nelle posizioni giuste. Fermi tutti. Prima di andare in pubblicità, guardate qua. Questi sono i bivacchi in zona stazionale. Ecco, questo poverino è passato, ha tirato su una carta e l'ha messa nel cestino. Ecco, bravo. Perché ha visto? No, no. Ci sono i vigili e allora ha visto il vigile. Forse servono i vigili in giro. No, no, no. Non ho mai visto che in una situazione di porcheria, di rifiuti del genere, passa uno, butta la carta per terra e la tira dentro. No, c'era il vigile. Vedi che il vigile serve per strada. Però guardate, queste sono persone, signori. Queste che stiamo vedendo in diretta adesso sono persone. E grazie al nostro cameraman che le inquadra in modo così discreto, perché così va fatto. Queste sono persone, buttate lì. Quello è uno spazio che andrebbe usufruito dai cittadini. I cittadini per passeggiare, per godersi il fresco della sera. Brava, godere il fresco. Che cavolo di fresco vuoi godere qui con della gente che purtroppo è costretta a vivere per strada e magari anche vivere di espedienti. Ecco, vedere una divisa come quella che stiamo vedendo, che passeggia là in mezzo, dà sicurezza. Vedere i vigili dà sicurezza. Certo, è sicuramente la presenza delle forze dell'ordine, del vigile urbano, è un elemento che ti tranquillizza. Ecco, mi dite regia dove siamo esattamente lì. Io vorrei però evitare di avere i vigili urbani lì, perché ho quelle persone allocate in un posto giusto sotto controllo. Perché sono immagini che mi stanno arrivando in diretta da una pattuglia, vai a pieno schermo, che stiamo seguendo una pattuglia dei vigili. Volevo sapere in diretta esattamente da dove, perché si sta muovendo la pattuglia, però questa è la situazione. Fino a qualche anno fa le nostre vecchiette andavano a farsi la passeggiata col cane, col gatto, col marito e con l'amante lì intorno. No, beh lì mica tanto, perché adesso almeno ci abbiamo i rifugiati. Qualche anno fa, anche una decina di anni fa, c'era ben di peggio. Adesso almeno c'è gente che è lì che cerca di purtroppo vivere questa sua fase di passaggio e di trasloco. Però voglio dire, una volta qua c'erano i tossicodipendenti che ti rubavano, c'erano i pusher che vendevano la droga. Quindi tutto sommato tra quegli spettacoli di allora e questo, meglio questo. Io però, ripeto, vorrei quelle persone allocate in un posto dignitoso e invece avere lì l'area dei cittadini che passeggiano e si godono la riqualificazione di quell'area che è stata fatta. Sì, peccato che il muro poi sono passati quattro lazzaroni, che non sono certo quelli che dormono lì, e hanno fatto dell'altro. Vabbè, anche questa è Milano. Quella appartiene all'arte di strada, come dice qualcuno. Quella lì è arte di strada. Come dice qualcuno. Ah, ecco, no, è appunto. Io ho fatto i muri liberi da assessore ai lavori pubblici e devo dire dove sono riuscita a attribuire i muri liberi e devo dire che dell'arte di strada si è vista. Carmela, il telefono sta bollendo e quindi subito dopo la pubblicità rispondiamo. Milano è anche questo e la presenza di qualche divisa, ripeto, fa bene. A tra poco. Intanto mi dicono i miei collaboratori, giustamente, ma volevo essere preciso, che lì prima eravamo in via San Martini, qui siamo sempre in zona stazione centrale. Leggo l'altro giorno che i vigili hanno fatto un'operazione al mercato delle Pulci e al Giambellino. Otto denunciati, centinaia di pezzi di merce rubata finiti sotto sequestro. Insomma, andate a vedere anche chi si rivende la roba rubata qua. Assolutamente. Che è un tema importante. Non solo, quello è un tema importante, tra l'altro sono arrivate delle segnalazioni dei cittadini e io ci ho tenuto a precisare tre cose. Primo, che abbiamo sequestrato 45 kg di roba da mangiare rubata ai supermercati, ma pezzi di grana grossi, tra l'altro. Assicurato la giustizia ci finisce sempre la vecchietta con la dentiera che si è messa via lo yogurt. Appunto. E poi i grandi ladri. E invece questi qui che erano delle signore, come nomadi italiane, ci tengo a precisarlo, come gli otto fermati e gli otto denunciati per ricettazione erano otto italiani anche loro. Mentre abbiamo anche fermato un cittadino albanese che aveva un ordine di rintraccio. Non sappiamo, poi la polizia locale sta accertando, poi l'ha consegnato al magistrato. Non sappiamo il motivo per cui aveva l'obbligo, però è stato trovato e anche lui. E tra l'altro questo era uno di quei mercati delle pulci che era stato più o meno normato con una delibera del 2012 che a mio avviso ha delle cose che dobbiamo assolutamente rivedere perché c'è la possibilità di vendita fino a oggetti del valore di 300 euro. Non pagano le tasse, lì dovrebbe essere un mercato del baratto. E invece... Quindi vai a mettere il naso anche lì? Dappertutto. 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 Ecco, ma segnalazioni quante ne stai ricevendo? Una marea, anzi chiedo ai cittadini di darmi un po' di tempo prima perché io possa diventare a pieno titolo operativa. Di segnalazioni arrivano una marea. Oggi sono andata a visitare la centrale di Via Drago dove abbiamo la centrale operativa che leggono e guardano tutte le telecamere che ci sono in città e proprio oggi pensavamo di utilizzare delle telecamere a distanza di notte che ci possano permettere di vedere cosa succede e magari indirizzare immediatamente la pattuglia. Questo è un pezzo della riorganizzazione che non vi aspettate nel mese di agosto ma io spero che nel 2017, cioè fra neanche cinque mesi, possa diventare operativo perché un altro dato che è elemento di insicurezza per i cittadini sono i bivacchi in giro per la città legati magari solo ed esclusivamente a giovani che non hanno niente da fare, spesso extracomunitari, spesso anche italiani e che in piccoli luoghi, piazzette e robe del genere si appropriano di quegli spazi magari per bere, ubriacarsi e poi combinano guai ed è un elemento forte di insicurezza per i nostri cittadini io spero che il mio titolo sia giusto Milano cambia musica, c'è un punto di domanda la cambia? Con la sinistra? credo di sì si sono resi conto? nel mettere te hanno fatto una scelta precisa io credo che mettere me alla sicurezza è un segnale forte di discontinuità politica va bene, 02386 02359 per intervenire in diretta buonasera con chi parlo, è in diretta già buonasera buonasera come si chiama? io devo aspettare di dire una cosa si come si chiama? ce l'ha un nome? mi chiamo Gino Gino? Gino dica Gino io voglio sperare una cosa che venga a presto le prossime politiche voglio sperare che venga a presto le prossime politiche perché voglio voglio che Milano ritorni pulita come una volta grazie Gino grazie abbassate sempre il volume del vostro televisore quando formate lo 02386 02359 buonasera, come si chiama? buonasera è in linea? dica sì, buonasera dica niente, voglio intervenire è già in diretta scusi, è già in diretta come si chiama? era possibile di parlare in diretta signore, è già in diretta come si chiama? signore, è già in diretta come si chiama? ah, sì, è Roberto ma non è già una misera dieci anni che c'è ecco, non recuperarli tutti adesso dimmi tutto ma niente, io volevo dire la mia non sono in diretta ancora sei in diretta ti ringrazio allora, il prossimo sappia che sarà in diretta perché io non posso perdere tutti questi minuti dicendovi che siete in diretta pronto? buonasera sì, pronto, buonasera come si chiama signore? mi chiamo Angelo e chiamo da Mariano Mariano Comense giusto? sì, Mariano Comense e mi dica che cosa non va bene? ma guardi chiudere le frontiere chiudere le frontiere non basta bisogna tirar su una muraglia cinese la ringrazio grazie anche per aver detto la sua mentre la regia vi rimanda fuori strada io vi ricordo che stiamo parlando di Milano e stiamo parlando e siamo in diretta con una pattuglia che adesso stiamo lasciando tranquilla a fare tranquilla per modo di dire avete visto cosa c'è lì di lavoro da fare a fare i suoi controlli e stiamo parlando della sicurezza a Milano come intende cambiarla l'assessore Rozza del Partito Democratico come intende gestire un assessorato così importante per tutti noi pronto? buonasera bassi il volume come si chiama? niente? meglio? ha lasciato e ogni lasciata è persa andiamo alla prossima sempre regia inquadrami il numero il meccanismo è sempre lo stesso chiamate parlate direttamente con me e l'assessore Rozza pronto? sì buonasera volevo fare un intervento in diretta lo sta già facendo è già in diretta come si chiama? ecco qua sono Massimo Emiliano volevo fare presente al nuovo assessore zona Piazza Mistral via Bonpombagni angolo Pietrofetti che è un degrado assoluto non ho capito la via mi scusi via Bonpombagni che fa angolo con Pietrofetti Piazza Mistral zona Rovoreno sì sì ho capito praticamente ormai H24 furti in pieno giorno a strutture recettive ristoranti l'asfalto è diventato pieno di pedre di macchina ormai è impossibile anche camminare a piedi furti ripeto in continuazione in piena giornata anche con le camere portate ai fatti presenti i carabinieri non serve assolutamente nulla non si vede mai un vigile non si vede mai un carabiniero non si vede mai un poliziotto non si vede nessuno grazie Rozza e se ritorna il tema non si vede mai un vigile non si vede mai un poliziotto non si vede mai nessuno no no ma come dire lo dicevo prima che c'è una questione da risolvere che da un lato la riorganizzazione della polizia municipale e dall'altro una migliore distribuzione degli incarichi dei lavori e anche nella collaborazione con la polizia di stato è una delle necessità assolute che dobbiamo risolvere l'idea nella riorganizzazione è anche di assumere altri vigili e di riuscire a liberare alcuni di alcune incombenze all'interno degli uffici per riportarli su strada lo dicevo prima se abbiamo 15 commissariati che però poi alla fine ci sono solo i personali i vigili si devono occupare di tenere aperta la bottega forse è meglio che ne ho 10 così magari libero un po' di vigili dove li trovi i soldi per assumere altri vigili? questo lo trovi all'interno delle pieghe di bilancio dobbiamo fare delle scelte le priorità che il sindaco si è dato in assoluto la prima priorità sono le periferie le periferie non è una parola vuota è quello che non dovremmo più fare poi una delega alle periferie ma oggi significa sicurezza decoro urbano riqualificazione degli immobili e sono investimenti queste sono delle priorità che già la giunta si è date il sindaco in prima persona intanto chiedo ai miei tecnici se danno il microfono a uno degli agenti se è autorizzato e può parlare tanto l'agente lo sa se è autorizzato o no pronto buonasera eccolo lì linea che cade subito in diretta senza filtro senza centralino buonasera buonasera come si chiama? buonasera come si chiama? sono Stefano da dove chiama Stefano? sono della provincia di Milano è un paesino che di recente gli hanno di recente ormai sono un paio d'anni è aperto una nuova stazione delle ferrovie e praticamente stiamo avendo moltissimi problemi per quello che è lo spaccio che arriva da Milano scusi come si chiama sto paesino che facciamo? Ceriano Laghetto Ceriano Laghetto ha fatto anche segnalazioni sia ad Alfano richiedendo l'intervento dell'esercito eccetera eccetera per appunto pattugliare i vari boschi di questa stazione il problema però è che noi possiamo mettere anche l'esercito ma se sti giudici il giorno dopo li rimandano fuori siamo sempre appunto a capo La ringrazio Rozza Questo purtroppo non è un tema che può affrontare il Comune di Milano e ancora meno l'assessore alla sicurezza c'è un tema importante che riguarda l'impianto delle normative delle leggi dello Stato non solo delle recenti ma che si sono costruite nel tempo e quindi io posso solo dire che credo che dovremmo trovare la giusta equilibrio all'interno della normativa nazionale che è in materia naturalmente sia del governo che del Parlamento Cosa ti ha fatto fare di prenderti sta responsabilità di un assessorato così rognoso? Beh ma perché è una cosa importante per Milano Ti rendi conto che se sbagli sono cavoli amari? La politica si può fare in due modi vedendo i problemi e scazzandosi e facendo convegni potevo scegliere guardi il sindaco mi aveva offerto il commercio così ve lo dico a tutti non è che ma io mi sono vista in tanti convegni e allora si possono fare si fanno i convegni si parla bene si fa carriera oppure se io mi faccio mi presento alle elezioni e chiedo ai cittadini di votarmi per aiutarli a risolvere i problemi della città la sicurezza è uno dei problemi importanti di questa città fermi un attimo che intervisto Sara e Rosario Rosario Davì e Sara Zambelli che sono i due agenti che stanno facendo il servizio di pattuglia posso ringraziare prima di tutto? Vi ringrazio l'assessore naturalmente adesso l'inquadratura balla un po' ma vi ringrazio mi state sentendo mi stanno sentendo i due agenti si la sentiamo perfetto allora con il microfono vicino la sentiamo perfetto vi ringraziava l'assessore per il vostro lavoro ha speso parole molto positive sul corpo dei vigili ha detto ve lo racconto perché voi avete fatto altro nel frattempo ha detto che ha trovato arrivando lì ha trovato il fatto che voi non avete spesso i mezzi giusti per lavorare avete anche queste robe qua ve le dico così ma non commentiamo e che avete anche delle sedi carenti e che farà in modo che possiate lavorare meglio detto questo che avete fatto stasera? grazie chi si prende il microfono? uno siete bravi come vigili ma con il microfono no uno prenda il microfono lo avvicini alla bocca e mi racconti che cosa è difficile è vero è perfetto dai ci sente? si Rosario che avete fatto? stasera abbiamo effettuato un giro in pattuglia con il vostro operatore si è acceso si sentiva benissimo io non lo sento e non sente lui si sentiva benissimo ok abbiamo effettuato come le dicevo un giro in centro abbiamo fatto dei controlli su dei veicoli che circolavano dopodiché ci siamo portati dove come in questo caso ci sono dei centri di prima accoglienza e smistamento dove la nostra presenza è praticamente noi stiamo qui a controllare che tutto si svolga nella regolarità e che non ci siano situazioni di criticità bene Sara non so se mi senti io non la sento sentito perfettamente adesso vorrei sentire Sara ricordo che siamo in direzza collegati con la stazione centrale Sara allora un lavoro che fino a qualche tempo fa era particolare per una donna e adesso invece è la normalità quanto è dura farsi rispettare la fuori per strada ed essere una signorina così insomma quando non c'è la divisa è una signorina carinissima con la divisa ancora di più però io dico una ragazza così giovane come fa a farsi rispettare a fare questo lavoro difficile rispettare a fare questo lavoro difficile beh non faccio niente di più né niente di meno dei miei colleghi maschietti diciamo basta rivolgersi sempre con educazione con rispetto e portando con orgoglio la divisa che indossiamo insomma ecco questa frase è bellissima io chiuderei qui non faccio niente di speciale penso e vi ringrazio e vi ringrazio tutti e due mentre continuano le immagini l'intervista vostra è finita ma il resto continua buonasera 90 secondi stanno sentendo tutte le cavolate che dico io tutti quelli della stazione centrale ma va bene così perché mi interessava alzare l'audio per parlare con i vigili che continuano il loro lavoro noi continuiamo con Carmela Rozza le telefonate e tutto il resto tra 90 secondi siamo qui 90 secondi 90 secondi sempre diretta dalla stazione centrale però se io guardo i dati sulla sicurezza a Milano diffusi dalla fonte autorevole dalla questura nel periodo primo maggio 2015 30 aprile 2016 vedo che i reati sono tutti calati compresi i furti su abitazione meno 10,68 i furti sulle auto di sosta meno 11,71 le rapine in strada anche quelle cambiando la pagina della tabella sono scese sono scese le estorsioni le lesioni dolorose i danneggiamenti aumentano invece i maltrattamenti in famiglia truffi e frodi informati i reati totali per farla breve sono scesi dell'8,14% però mi chiedo Carmela Rozza non sarà perché la gente non denuncia e soprattutto questi furti in abitazione che sono calati però sono quasi tre calcolando scusate tornate qui con me quasi tre ogni ora insomma guardate la sicurezza non è una cosa assoluta la sicurezza principalmente è contenere la possibilità di reato riuscire a ridurre il più possibile la possibilità di reato per quanto riguarda il furto in appartamento in realtà è una delle attività di lavoro principale della polizia di stato più che della polizia locale però è chiaro che mettiamo tutto a sé poi è chiaro che dove ci sono soldi o si pensa che ci siano soldi più è facile che si vada a tentare il furto io credo che la questione di fondo cioè i reati diminuiti secondo te è perché la gente non li denuncia reati totali meno 8 e 14 è facile che non mi aspetta un attimo vediamo le altre tabelle da casa reati totali meno 8 e 14 periodo primo maggio 2015 30 aprile 2016 scusate se insisto fonte questura di Milano vedete quanto sono di Milano è perché la gente non denuncia perché io credo perché c'è un maggiore controllo del territorio c'è stato sia grazie al fatto che con Expo sono aumentati gli uomini in strada noi abbiamo chiesto e ottenuto di trattenere anche gli uomini e le donne dell'esercito che fanno pattugliamento durante la notte ma principalmente credo che siano anche diminuiti dal momento in cui c'è stato un maggiore controllo maggiore anche attività di indagine non cioè il cittadino non denuncia magari il furto del telefonino il cittadino non denuncia il furto della bicicletta ma se ti rubano in casa la denuncia la fai così come per tutti gli altri tipi di reato adesso il vero problema che abbiamo a Milano è quello di intervenire in quelle aree in quelle sacche di periferia dove ci sono delle aree che sono terreno di nessuno o peggio dove ci sono luoghi per esempio noi abbiamo allontanato in questi giorni in continuazione però le immagini che abbiamo qua in diretta e la stazione è una sacca di periferia no ma questa non è una sacca di periferia priva di controllo come dicevo prima questa è una realtà legata alla contingenza dell'arrivo dei richiedenti asilo quando c'è un assembramento di tante persone è importante che ci sia la polizia municipale a presiedere a controllare che non succeda niente di sgradevole che quando c'è tanta gente persone che non hanno neanche riferimenti perché gente che è arrivata a Milano che non sa bene neanche come muoversi a maggior ragione possono essere loro preda di qualche malintenzionato oppure potrebbe partire qualche conflitto che è meglio evitare che nasca e quindi è giusto che ci sia una presenza della pattuglia ma questo c'entra poco con i reati invece di cui parlavamo prima allora dicevo noi per esempio in questi giorni abbiamo continuamente allontanato dei nomadi siciliani che vengono lo sappiamo tutti vengono a fare la stagione dei furti a Milano durante il mese di giugno e luglio è ripetitivo poi se ne tornano a noto perché sono di noto o magari non possono neanche tornarsene al loro paese perché sono italiani non solo da noto vengono qua visitano non solo adesso il punto qual è che abbiamo fatto anche le perquisizioni però state tranquilli che nelle loro roulotte nelle loro macchine non c'è furtiva quindi non hai tante armi e l'unica arma che hai gli dici quindi non puoi sostare te ne devi andare ti faccio il verbale da 500 euro siccome questi hanno delle proprietà e allora il verbale preferiscono non pagarlo perché ci sono degli elementi che o trovi l'oggetto del reato o tu non sei in grado di intervenire e quindi invia a cima in continuazione poi si spostano da cima in zona Rizzoli dove ci spostiamo di là e li continuiamo a mandar via perché l'unico modo vero è che a quel punto tu scegli di puntare su quelli li segui li controlli e tutto ci metti tutte le energie ma prendi sui campi rom che sono il terreno di battaglia elettorale preferito dall'altra parte quindi come ti comporti guarda io vi dico la verità domani faccio la mia prima riunione con la polizia municipale per fare avere il quadro completo dei campi rom sia le cosiddette virgolette regolari che inregolari sulle aree come dici inregolari piccole la strada è solo una lo sgombero è la messa in sicurezza dell'aria ma in una maniera un po' diversa l'ho detto al sindaco che ha convenuto insomma sto sala A ha le palle B ha una testa che non è proprio io sono molto contenta rispondi ha la testa che non è proprio di quella frangia un uomo capabile e come fa a tenere botta con i centri sociali tutte queste robe beh spera di fare di farlo con me questa è la la grossa responsabilità che ho però credo che dobbiamo lavorarci seriamente bisogna anche lì io non sono una che va per ideologie come distingo negli abusivi delinquenti da quelli che non hanno hanno bisogno distingo anche nei centri sociali dopodiché chiunque vuole stare nella illegalità con me deve sapere che prima o poi la vinco allora noi torniamo subito dopo la pausa segnatevi il numero ancora per intervenire tra poco eccoci qua allora ancora qualche immagine della stazione centrale dove ormai non andate più perché avete paura soprattutto a quest'ora a fare che cosa la pattuglia nostra dei vigili si sta fermando lì per lavorare e ovviamente noi non è che con la telecamera giusto per farci un giretto possiamo disturbare chi lavora stanno facendo il loro lavoro in questa zona i miei cameraman lo stesso stanno facendo il lavoro vi stanno mostrando questa zona io ho ancora sette brutte storie di cui parlarvi ma anche questa sera mi è finito il tempo perché i pacchi sono dieci sono al terzo e allora che faccio in questi pochi minuti sento delle altre telefonate allo 02386 02359 per Carmela Rozza il pacco ma scusate perché mi avete messo la rozza nel pacco perché pensate che ci possa tirare un pacco nella sicurezza e soprattutto questo scatolone è bello pieno lascialo così poi quando decidete che non vi sto tirando un pacco lo tirate via ah ok allora ma guarda io andrei già sulla fiducia e questo lo butto giù troppo buono cosa ci fai là in mezzo spero di meritarla i pacchi vari via togliamoci il pacco di mezzo pronto sei rimasto in linea pronto pronto buonasera bella signora grazie senta io parlo con la signora Rozza si eh dica devo dire che io abito in Viale Monza io vorrei che facessero dei controlli con tutta la gente che mora nei pacchi di casa per strada dentro in questi cassonetti bottiglie c'è di tutto non si può più vedere la città pulita come sempre e poi quei bar lì che c'è sui viali che hanno quei cestoni lì dei fiori c'è dentro di tutto ma non hanno il dovere alla mattina quando tira su la sede cinesca pulirli pulire non è colpa sua però hanno il dovere di pulirli va beh insomma tutto quello che trova così adesso lo associa alla Rozza però io però vorrei dire che il decoro urbano non è compito dell'assessorato alla sicurezza detto questo la signora ha ragione perché se le cose sono se c'è come dire sciatteria è giusto che vengano richiamati però il decoro urbano non è tema della sicurezza detto questo però la signora vorrebbe siccome ha visto qui in diretta che passava un vigile e uno per magia buttava le carte e ma quando io uso dire che però se mettiamo i vigili a controllare quelli che buttano le carte per terra a controllare quelli che buttano le cicche per terra a controllare quelli che i bar che non puliscono il marciapiede e a controllare anche quelli che lasciano la cacca del cane per terra poi voglio capire come faccio a utilizzarli sulla sicurezza dobbiamo decidere con tutti i soldi delle cacche e delle sigarette perché a noi gli eserciti non ce li abbiamo no 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 scusa a noi fumatori sulla cacca non rispondo però a noi fumatori ci date centinaia centinaia di euro se buttiamo una cicca di sigaretta per terra con quei soldi che ci dà eh sì però signora che ti devo mettere dietro un vigile perché appena butti la cicca ti può sanzionare perché un secondo dopo tu dici ma non l'ho buttata io quindi dobbiamo capirci io infatti non amo le ordinanze delle cose che non posso controllare perché significa impegnare le persone in attività che poi viene sottratto ad attività più importante come per esempio dicevo prima i bivacchi che è una cosa che danno in situazione prima un'altra telefonata pronto buonasera buonasera come si chiama? mi chiamo Luca da Milano Luca grazie dica grazie a lei ma una domanda avete usato il termine vigili polizia municipale polizia locale io penso che se la signora deve dirigere il personale in primis dovrebbe sapere come definirli prima cosa seconda cosa sono diciamo fiducioso perché la sento molto determinata in quello che vuole fare per Milano però rimango un po' tra virgolette titubante sul fatto che si possono fare delle operazioni fatte come di comanda se in primis il comune non sa e non conosce bene quelle che sono le competenze i poteri e i limiti degli agenti di polizia la ringrazio molto questo argomento in realtà l'avevamo toccato e i nomi li cambio io perché uso i nomi che usa anche la gente io mi sbaglio ogni tanto perché Isa non l'ha usato perché io sono un cittadino come tanti ho 30 secondi ma no adesso l'appunto che mi ha fatto sul linguaggio sicuramente ha ragione ma come dire il linguaggio si apprende man mano che si fanno le cose quindi di questo mi scuso poi a me il ghisa mi è sempre piaciuto nell'accezione milanese e a volte per stare nel PD di ghisa bisogna mettersi pure le mutande attenzione per questo io sono la prima a dire che le persone che lavorano e ancora di più la polizia la polizia municipale deve essere messa nelle condizioni di lavorare nel migliore modo possibile e questo significa non solo attrezzature ma luoghi degni di una polizia municipale del 2000 ci rivediamo presto come cosa si prova a non aver litigato per una volta per due volte insomma sono abbastanza contenta sono serena va bene buonanotte è anche un modo per spiegare ai cittadini le cose buonanotte buonanotte a Carmela Rozza è linea i programmi di Antenna 3 che continuano spero di non aver rubato anche stasera dei minuti semmai mi scuso buonanotte